Ciao, sono Attilio Reinhardt, vi aspetto alla Maison Milano, sabato 27 maggio per Variety Night. Con noi ci sarà Candy Rose, Pulesk, l'Aerial Artist Serena Cannale, Ah, ah, ciò bata! E l'Anomalia del Quartetto. Noi siamo noi, siamo noi! A presentare la serata il vostro amatissimo Attilio Reinhardt. Megano Mané, Guccio e Guccio, Ultramsista, Non ce la posso fare.